Clamoroso boato questa notte intorno alle 3.45 alla filiale di Banca Monte dei Paschi in strada Massetana Romana a Siena. Una banda di malviventi con una miscela gazzosa ha provocato un'esplosione che ha divelto il controsoffitto dell'agenzia e inclinato i vetri antiproiettili. La cassa continua del Bancomat sono rimasti intatti e il tentativo di furto si è vanificato senza alcun bottino. Sono stati causati anche danni al mobilio all'interno della filiale. L'allarme è scattato dalla sorveglianza che ha immediatamente avvertito carabinieri, polizia e vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Dopo i rilievi effettuati durante tutta la mattina non è da escludere che al baglio delle forze dell'ordine possano esserci anche le immagini della videosorveglianza che potrebbero aiutare ad individuare gli autori del tentativo maldestro del colpo.